Biden, una minaccia per la democrazia, non è in grado di guidare il paese, è corrotto ed è il peggiore della storia. Donald Trump attacca nuovamente e duramente il presidente americano e la rivale repubblicana per la candidatura Nikki Haley. In un comizio a Banchester nel New Hampshire, l'ex presidente degli Stati Uniti si presenta come l'unico leader che può salvare gli Stati Uniti dalla prospettiva di un rallentamento economico e l'unico in grado di sbloccare la situazione tra Russia e Ucraina. Conosco Putin e Zelensky, risolverò la questione ancora prima di entrare in carica.